Salve amici e amiche, bentornati sul mio canale. Il brano che vi propongo oggi è un brano famosissimo, avete letto sotto, si tratta degli anni, un brano scritto, musica e parole, sempre dal grande Max Pezzali, che all'epoca stava con gli 883, il brano risale agli anni 90, 95 o 96, è stato pubblicato, poi Max Pezzali ne ha fatte varie versioni, nel 2013 mi sembra insieme a Cremonini ha fatto un'altra versione, poi addirittura nel 2017 insieme a NEC, la proposta insieme a NEC e a Francesco Renga, e poi nel 2021 addirittura al Festival di Sanremo, quindi l'ultimo festival, in terza serata è apparsa una specie di cosa, portata da Joe Evans, che è un giovane cantautore italiano, e poi sono state fatte anche numerevoli versioni, addirittura una versione fatta da un rap, tante versioni, insomma c'è un brano molto attuale, un brano nostalgico, un brano che parla del passare degli anni, se lo andare a vedere insomma e lo sentire, è un brano molto interessante, molto nostalgico, è un brano in sol e che ha caratteristiche di un brano in minore, perché è un brano triste, quindi troviamo spesso il min minore, che è fra l'altro della relativa minore e del sol maggiore, e il brano se ve lo ricordate più o meno inizia in questa maniera Stessa storia, stesso posto, stesso pan, stessa gente che viene dentro consuma e poi c'è il brano rosso, che faccio qui, mi esco un po', eccetera eccetera, e poi c'è il famosissimo ritornello, che fa più o meno così, più ritmato eccetera eccetera, adesso dall'alto vi faccio vedere nello specifico come lo facciamo, come lo andiamo a fare, come lo faccio io Allora, eccoci qua, allora come dicevamo il brano è in sol e inizia infatti con un sol maggiore, praticamente inizia in questa maniera Ok? Come lo faccio io? Parto con il sol maggiore, che prendo in questa maniera, cioè le ottave qui con il re e di qua prendo il primo rivolto della triade, sol maggiore, primo rivolto Dopodiché faccio questo piccolo pezzettino che è re mi sol la sol, re mi sol la sol, due volte Dopodiché la sol mi re, per introdurre il mi minore, ok? E qui inizia il brano Stessa storia, stesso posto, stesso bar Stessa gente che viene dietro, consuma e poi va Non lo so, che faccio qui, esco un po' E vedo i fari dell'auto che mi guardano e se, eccetera eccetera Come inizia quindi, mi minore Di qua prendo i fondamentali, di qua prendo il primo rivolto della triade, come al soli Stessa, da vorrei che do Quindi nella destra è molto semplice perché passare dal mi minore al do al sol Praticamente è Stessa storia, stesso posto stesso Ma soltanto a bar Ci va al re maggiore e ci spostiamo con la mano Quindi questo qui è teoricamente fondamentale, importante Non spostarsi mai troppo quando si passa da un accordo all'altro E questa è una condizione molto tipica In cui dal mi minore Sol, si, mi Io passo al do maggiore Sol, do, mi Dopodiché passo al do maggiore e poi al sol maggiore Sempre lasciando il sol di base Sol, si Ok? Quindi E di qua prendo le fondamentali Stessa, quindi mi Stessa storia, stesso Allora Stessa storia, stessa storia, stesso Posto, ok? Stessa storia, stesso Solo col sol ritorno sulla triade perché Sennò è troppo lontano Stessa storia, stessa storia, stesso Posto, stesso Ma La re mi La re fa mi re La re fa mi re Per ritornare sul mi Stessa gente che Stessa gente che Che viene dentro Consuma e poi va Re Do Che faccio qui Di nuovo re Esco un po' Di nuovo re E vedo I fari dell'auto che mi Vedete qui I fari dell'auto che mi Quindi questa scala E vedo I fari dell'auto che mi Guardano e se mi Nuovo Guardano e sembrano Chiede Mi Cerchiamo Noi Ok, lo rifaccio tutto senza Parlare, diciamo Parlare poco Inizia con il sol Stessa storia, stesso Posto, stesso Ma Stessa gente che Che viene dentro Consuma e poi va Non lo so Che faccio qui Esco un po' E vedo I fari dell'auto che mi Guardano e sembrano Chiedermi Chi cerchiamo Noi Ok, da ora che qui Inizia il ritornello Che parte dal sol E mi sposto un po' Sulla destra Per renderlo più squillante E più ritmata Adesso ve lo faccio E poi ve lo spiego Gli anni d'oro del Granderea Gli anni d'epidei Se p, r, f, m, al, f Gli anni delle immense compagnie Gli anni di motorino Sempre in giro Gli anni che bergerano i figli Allora io sulla destra Quindi faccio adesso solo la destra Gli anni d'oro del Granderea Gli anni d'epidei Faccio questo Gli anni Vedete Gli anni E qui mi muovo sulle triadi centrali In modo da rendere più semplice Più ritmato E più squillante Quindi lo rifacciamo Gli anni d'epidei Allora mi sono persi le parole Gli anni d'oro del Granderea Vedete Ok ho reso l'idea Sol Gli anni d'epidei Le parole Gli anni d'epidei Se p, r, f, m, a Gli anni d'epidei Gli anni d'epidei Gli anni di motorino Sempre in giro Gli anni d'epidei Erano i film Gli anni d'eroe Roger Come James Gli anni di qualsiasi cosa fai Gli anni del tranquillo Siamo qui noi Quindi E mi re do Siamo e di nuovo Siamo qui noi Re so Qui sempre Stavolta invece di fare Re, mi, sol, la, sol Facciamo solamente La, sol, re E poi La, sol, mi, re Per ricominciare la seconda frase Che è identica alla prima Allora Ripeto quindi il ritornello Con le note Facendo semplicemente così Sol maggiore Gli anni d'oro Del re maggiore Grande, re, a, la, minore Gli anni d'epidei Do maggiore Di, raf, mal Re maggiore Gli anni delle mezze Do maggiore Bagni Re maggiore Gli anni d'motorino Sempre quindi Do Re, so Gli anni di Che belli erano i film Gli anni d'eroe Roger Come jeans Gli anni di Qualsiasi cosa fai Gli anni del tranquillo Siamo qui E qui va il mi minore Quindi tranquillo E do Re maggiore Siamo qui No Mi minore No Re, do E poi ripete Siamo qui Mi minore Re, do Re, so E ripete Stessa storia Stesso Posto Stesso Ma Una coppia Che viene dentro Consuma E poi va Non lo Non vede parole Come va Salutano Stesse note Così Io Vedo Le fedi Alle dita Di due Che porco giuda Potrei essere Io Qualche anno fa Qualche anno fa E ripete E per tre frasi Perché poi la terza frase è uguale Viene introdotta Stessa storia Stesso posto Stesso Le parole Le andate a vedere Ok Il finale Sempre quello Siamo qui No Finale Fate come vi pare Finisce con Siamo qui No Perché poi dopo C'è un finale Orchestrale Che voi non potete Fare col pianoporte Quindi A un certo punto Finite con Siamo qui No Potete finire così Senza fare Nessun arpeggio Perché magari ci sta malissimo No E quindi Ok Mi raccomando Iscrivetevi Arrivederci al prossimo video Siamo qui